Vai di fretta ma vuoi essere comunque perfetta? Vi svelo un trucco semplice e veloce da realizzare ogni mattina prima di andare al lavoro. Prima di tutto bisogna preparare il viso al make-up utilizzando una crema idratante o un primer. La pelle idratata e pulita migliorerà l'effetto finale ma permetterà anche al trucco di durare più a lungo. Adesso passiamo al nostro make-up utilizzando per prima cosa un fondotinta. Lo andiamo a mettere un po' sulla mano e con una spugnetta andremo a stenderlo su tutto il viso. Una volta applicato il fondotinta su tutto il viso facendo attenzione anche a non creare differenza di colore tra il viso ed il collo andiamo a coprire con un correttore le imperfezioni e le occhiaie. Andiamo adesso a fissare la nostra base del make-up con una cipria e adesso andiamo a dare colorito alle nostre gote utilizzando una terra o un blush. Passiamo adesso agli occhi. Utilizzeremo un eyeliner ed un mascara. Andiamo a realizzare una piccolissima lineetta in modo tale da allungare leggermente l'occhio. Partiamo dalla fine. La linea dell'eyeliner può essere più o meno sottile in base alla vostra palpebra o in base alle vostre preferenze. L'importante è che andiate a definire lo sguardo e non appesantirlo. Adesso diamo volume e lunghezza alle nostre ciglia utilizzando un mascara. Terminiamo adesso il nostro velocissimo make-up con un gloss. I passaggi sono terminati, non ci resta che fissare il nostro trucco con uno spray fissante ed uscire. Andiamo a realizzare il nostro corso.